Federfarma su tamponi rapidi, ritardi non imputabili alle farmacie, necessario un nuovo approccio da parte della Regione. Le farmacie che hanno aderito alla campagna per l'esecuzione dei tamponi rapidi in farmacie a prezzi calmerati si trovano nella disargevole situazione di dover utilizzare per la registrazione dei dati una piattaforma imposta dalla Regione che non riesce però ad assicurare un'adeguata efficienza del servizio, con la conseguenza di non poter stampare i referti e quindi di impedire il rilascio del Green Pass necessario per molte attività tra cui l'ingresso ai musei, ai teatri e alle rappresentazioni classiche, i viaggi in aereo, le visite mediche su appuntamento ma anche una semplice serata al ristorante. Lo dichiara Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa. Il malfunzionamento della piattaforma vanifica il grande lavoro dei farmacisti, spiega Caruso, al punto di creare file e assembramenti con comprensibili malumori e battibecchi tra l'utenza esasperata dalle attese. Inoltre, la gente costretta ad assembrarsi in coda per i ritardi esagerati o ancora peggio non riesce a effettuare un tampone perché non si è in grado di garantire un esito, continua il presidente Caruso. Ma nonostante le numerose segnalazioni non si riesce ad avere la soluzione del problema. Se si pensa alla recente ordinanza regionale che estendeva l'obbligo di Green Pass anche per accedere a qualunque ufficio pubblico, peraltro poi sospesa, ma che avrebbe inevitabilmente aumentato la richiesta dei tamponi, ci si chiede come un'attività così critica sia stata lasciata in mani così poco esperte, conclude Caruso. Auspichiamo quindi al più presto da parte della regione un rapido ed efficace cambio di rotto e a nome delle farmacie sregusane ci scusiamo dei disagi creati per i quali non abbiamo colpa, abituati come siamo a offrire servizi di altissimo livello sempre in prima linea.